Sì, sì, abbiamo visto che sono tutte abbastanza in corto, ovviamente ci sono ancora un po' di discordi riguardo alle loro decisioni, però sì, possiamo fare insomma. Parzialmente soddisfatti gli studenti per le modalità dell'esame di maturità 2022 appena ufficializzate dal Ministero, modalità che hanno tenuto conto anche delle richieste dei giovani che erano scesi in piazza a manifestarle. Il necessario ritorno alla normalità per Covid, almeno sul piano formale, è stato comunque garantito. Due gli iscritti, più l'orale, ma la temutissima seconda prova non sarà decisa a livello nazionale e verterà su un'unica materia anziché due. Qualche perplessità sul fatto di aver attribuito un punteggio inferiore alla prova, cioè 15 alla prima, 10 alla seconda e poi 25 al colloquio. Nel senso che non ne vedo un motivo, se non forse quello di accontentare un pochino gli studenti, che però forse non hanno valutato bene l'aspetto importante che la prova è fatta dalla scuola. Si potrà teoricamente ottenere la lode, ma i dirigenti scolastici prevedono mediamente invece un livello più basso dei punteggi finali di maturità. Non ci saranno forse grossi punteggi anche perché bisogna capire, visto il 50%, i 50 crediti degli anni precedenti, cioè se uno non aveva raggiunto direi il massimo oppure non era inserito in una fascia di crediti superiori, è ovvio che è difficile adesso anche con la riconversione dei crediti, insomma, in essere, avere un punteggio altissimo. Sono d'accordo anche perché dopo questi due anni di DAD abbiamo avuto delle difficoltà anche sicuramente delle carenze in quello che abbiamo studiato perché non sono stati affrontati gli argomenti come se fossero stati fatti in un periodo normale. rivolgendosi soprattutto a ragazzi che hanno dovuto farsi il mazzo per studiare anche a casa, con mille distrazioni, fratelli più piccoli che hanno avuto anche loro la DAD, magari penso che siamo stati la generazione più sfortunata, però allo stesso tempo più coraggiosa che abbiamo visto in questi anni. Grazie a tutti.